Tra di voi non sarà così, tra di noi, cioè nella chiesa, cioè tra fratelli dello stesso sangue, che è lo sangue di Cristo che ci ha salvati, che ci ha rigenerati, non è come nel mondo. Nel mondo si domina, si cercano i primi posti, nel mondo si cerca la vita laddove la vita non c'è e si vive malissimo e quindi si pecca perché il peccato è sostanzialmente il fallimento della propria vita. Che peccato, che peccato, esattamente, che peccato aver perso quell'occasione per realizzarti, per compiere la tua vita nell'amore. E quello è il peccato, tutto ciò che nella mia vita non compie l'amore, tutto ciò che non realizza il perdono, la misericordia, la tenerezza, il dono di me stesso, il servizio di cui parla oggi il Signore, cioè tutto ciò che nella mia vita non compie la vita di Cristo, cioè se nella mia vita non è vivo Cristo, che serve ogni uomo, che si mette a servizio, che dimentica se stesso, che esce da se stesso, che si compie nel trascendersi completamente nell'altro, tutto ciò è peccato, cioè è fallimento, è frustrazione. Tra di voi non sia così, perché voi avete conosciuto il Signore, tra di voi c'è, è vivo il Signore, tra di voi esiste l'amore, perché io ho lavato e lavo ogni giorno i vostri piedi. Quando il popolo di Israele, liberato dall'Egitto, dopo 40 anni di cammino nel deserto, si trova davanti alla terra promessa e sta per entrare nella terra promessa, il Signore sostanzialmente dice al popolo due cose. Una, fondamentale, non dimenticare che io ti ho salvato, non dimenticare che io sono Dio e tu non sei Dio, non dimenticare che se non fosse stato per me, tu stavi ancora nell'Egitto, ti ho salvato gratuitamente, senza alcun merito da parte tua, non appropriarti della mia gloria, ma resta nella verità, resta creatura, non insuperbirti, che è il peccato originale. E l'altra cosa che gli dice il Signore è quando entrerai nella terra promessa, tu non ti mischierai con i popoli, non servirai dei e idoli che non conosci. Conoscere nella scrittura non è soltanto una conoscenza razionale e non è nemmeno soltanto una conoscenza sentimentale, è qualcosa che coinvolge tutto l'essere, tutta la persona. Conoscere è addirittura un modo di esprimere il rapporto sessuale, due diventano una sola carne. Il popolo di Israele, il popolo eletto, il popolo messo da parte, il popolo scelto, non conosce gli idoli di questo mondo, non conosce i falsi dèi, non conosce la menzogna, perché è stato tratto dalla menzogna, è stato tratto dall'Egitto, dall'idolatria, è stato purificato, è lavato, è passato attraverso il Mar Rosso, il segno del Battesimo, è profezia di una creazione nuova. Tra di noi, quel tra di voi di cui parla il Signore, è molto di più, perché noi abbiamo conosciuto l'amore infinito di Dio, Dio ci ha salvato, ci ha perdonato nell'utero della Chiesa, noi siamo stati rigenerati, siamo nati come creature nuove, in un certo senso siamo stati reintrodotti nel Paradiso, certo non ancora in pienezza, e quello se Dio vuole e se ci convertiremo sarà il momento in cui lasceremo questo mondo, ma già qui, come un anticipo, noi viviamo spicchi di cielo, cioè ritorniamo nella condizione di figli di Dio, nell'intimità con il nostro Padre, nella casa del Padre, noi nella casa del Padre abbiamo conosciuto le cose del Padre, abbiamo conosciuto il suo amore, siamo una sola cosa con Lui, viviamo dipendenti da Lui, non conosciamo ciò che c'è fuori, non conosciamo l'idolatria, non conosciamo l'adulterio, non conosciamo gli amanti, non conosciamo la pornografia, non conosciamo l'attaccamento al denaro, non conosciamo l'idolatria del corpo, dei nostri pensieri, dei nostri progetti, non conosciamo la corsa spasmodica al prestigio, perché noi abbiamo Dio, perché noi conosciamo Dio, perché noi siamo figli di Dio, in Cristo noi viviamo la vita divina, noi abbiamo dentro un principio di incorruttibilità, noi siamo sazi, noi conosciamo il nostro pastore, le pecore conoscono la voce del pastore, un'altra voce non la seguiranno, la voce del mercenario non la seguiranno, la voce del titolo, della menzogna che ci uccide, noi non la conosciamo, noi non conosciamo la voce che ci dice giudica tua moglie, noi non conosciamo la voce che dice abbi rancore, fatti giustizia, cerca il piacere, se vedi che la tua famiglia, che tua moglie, che tuo marito, che sul lavoro ti fanno delle ingiustizie, ti traggono felicità, gioia e compimento, cercalo altrove, fai affari tuoi, eccetera, eccetera, no, noi conosciamo un'altra voce, la voce del pastore che si è fatto agnello, la voce del pastore che si è fatto servo, che ha dato la vita, noi conosciamo Cristo, che è il figlio di Dio, che è Dio, noi conosciamo Lui, noi che siamo stati sottratti dalla morte, noi che stiamo vivendo un cammino di conversione che ci porta alla rigenerazione, che ci conduce alla Pasqua, questa quaresima che ci riconduce al fonte battesimale, a rinnovare le promesse battesimali, cioè a rivivere, a ritornare di nuovo ancora con più forza in questa intimità, a rinascere la vita nuova, la vita nuova è la vita del figlio, il figlio prodico che torna a casa, il figlio prodico perché soffriva, perché non ce l'ha fatta più, perché era affamato da morire, perché chi pecca non è felice, perché nessun uomo nel fondo di se stesso conosce veramente gli idoli, sembra che gli idoli sazzino, sembra di conoscere gli idoli, sembra di conoscere quel giudizio, cioè che quel giudizio è adeguato a me, che quel farmi giustizia è quello che mi sazia, che mi fa felice, non è vero, non è vero, ogni volta che pecchiamo, ogni volta che serviamo gli idoli siamo più frustrati, scoraggiati, entriamo più in depressione e inanelliamo peccato su peccato, no, noi siamo rinati in Cristo, per questo noi conosciamo Lui, la nostra madre, come la madre dei figli di Zebedeo, ci ha generato nel peccato, cioè nella concupiscenza, cioè nell'idolatria che ci porta alla morte, in Cristo siamo figli di un'altra madre, cioè nella Chiesa, siamo rinati per bere il suo calice, cioè per dare la vita, per offrire noi stessi, e lo berremo, è bellissimo quello che dice il Signore, ma certo, ma voi siete miei fratelli, voi siete rinati in me, voi siete mie pecole, quindi è naturale, per la nuova natura divina, che voi beviate il mio stesso calice, cioè che voi beviate il calice dei peccati dell'altro, il calice pieno del rifiuto, della ingiustizia, per trasformare tutto in bene. Io vivo in voi, sono ai piedi di chi? È a vostro fianco, per dare la mia vita in riscatto per chi ti è accanto, per tua moglie, per tuo figlio, per tuo marito, per i colleghi di lavoro, nella tua solitudine, nella tua vecchiaia, ovunque tu sia, dare la tua vita in riscatto, perché la tua vita è stata riscatata da Cristo, è di Cristo, conosce Cristo, è una sola cosa con Cristo, tu sei di Cristo, tu appartieni a Lui, la tua vita è Sua, il tuo sangue è il suo sangue, la tua carne è la sua carne, i tuoi pensieri sono i suoi pensieri, tra di voi è un'altra vita, soprattutto in questo tempo così difficile, vivere donandoci senza paura di perdere la vita, senza paura perché nessuno ce la strappa, ma siamo noi che la consegniamo perché in Cristo abbiamo il potere di ritrovarla, moltiplicata, l'anticipo della vita eterna, l'anticipo del cielo, le cose che conosciamo, che è il profumo del paradiso, che è la vita eterna, che è la misericordia, che è l'amore, che è l'intimità col Padre, noi la sperimentiamo donandoci, morendo per l'altro, consegnandoci completamente all'altro. Coraggio fratelli, che questa è la meraviglia che Dio sta compiendo e compie in noi. Grazie. 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 Grazie.